benvenuti a sezze nel cuore del lazio ieri la città ha celebrato il re della primavera il carciofo nella 53esima edizione della sagra del carciofo di sezze il 13 e 14 aprile il centro storico si è trasformato in un vivace palcoscenico all'aperto accogliendo visitatori con stand gastronomici e culturali ieri gli ospiti hanno assaporato piatti tradizionali a base di carciofi e scoperto innovativi abbinamenti culinari la sagra ha offerto non solo cibo ma anche un'immersione nell'arte nell'artigianato e nella cultura locale gli allestimenti hanno esaltato la produzione agroalimentare e ortofrutticola del territorio mettendo in luce anche l'arte e l'artigianato della regione pontina lepina la sagra del carciofo di sezze si è confermata uno degli eventi più attesi della provincia di latina e del lazio attirando visitatori da tutta la regione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti